C'è ovviamente le imprese che assumono, sono quelle, non solo, ma per la maggior parte sono quelle, il 35% che ha uno scambio internazionale, cioè lavora con filiali all'estero e si trova molto bene, quindi sono quelle che assumono di più, ma non solo. Ecco, questa è un po' la visione che abbiamo noi direttori personale. Ecco, questo è quello che ci vuole oggi, il capire il mondo delle imprese e le necessità.